Una passeggiata lungo il sentiero che porta al rifugio Elisa per raggiungere la baita di un amico dove avrebbero dovuto pranzare. La tragedia quando la comitiva era quasi arrivata in quota. Un uomo di 68 anni, residente a Lissone, in provincia di Monza Brianza, ha perso la vita mercoledì mattina dopo essere precipitato nella zona della Grotta Bianca, località Ronge, a Mandello dell'Ario. Gli escursionisti, un gruppo di amici, non hanno visto il pensionato che si era tardato lungo il sentiero precipitare in una scarpata, ma lo hanno sentito gridare e hanno compreso che doveva essere accaduto qualcosa di terribile. Scivolato in un punto scosceso, probabilmente a causa dell'erba resa viscita dalla pioggia delle scorse ore, il 68enne è precipitato per una trentina di metri. L'allarme è scattato poco prima delle 11, in volo da Bergamo si è alzato l'elicottero di Areo, in azione anche due squadre del soccorso alpino, una pronta a partire dalla piazzola del centro del Bione, l'altra arrivata poco dopo in quota. Sul posto anche i vigili del fuoco, ma per l'escursionista Brianzollo non c'era già più nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo dell'uomo, dopo le autorizzazioni necessarie, è stato trasportato a valle.